Vindice Lecce presenta ufficialmente la sua candidatura col simbolo di sinistra sarda alla carica di Presidente della Regione. La conferenza stampa si è tenuta nella piccola sala di comunisti italiani in via Mancaleoni al Monte Rosello, dove il giornalista e scrittore ha dichiarato che non crede al voto utile, dobbiamo proporre altro. Il centro-sinistra finora ha innaffiato una pianta velenosa che ha portato l'elettorato agli schieramenti senofobi e razzisti che stanno riempendo le piazze. Lecce ha quindi sintetizzato i punti programmatici del programma che intende portare avanti innanzitutto il lavoro. E poi la sanità, siamo contrari a una unica ASL, ha detto, che pensa solo a far quadrare i bilanci a discapito della salute dei sardi. E poi l'industria, l'agricoltura, lo spopolamento, siamo favorevoli aggiunto alla metanizzazione dell'isola e alla conclusione dei bacini che si stanno realizzando in tutta la Sardegna. Unico sassarese in lista in aperta contrapposizione con la lista di centro-sinistra, guidata da Massimo Zedda e Andrea Murgia di autodeterminazione, ha risposto ad alcune domande prima di congedarsi. La sinistra era scomparsa pur essendo presente nella realtà. La sinistra è presente in natura perché dove c'è un conflitto c'è la sinistra, dove c'è un problema c'è la sinistra. Ma non avere una rappresentanza politica è assurdo e dal punto di vista della rappresentanza deve essere una rappresentanza autonoma e non può stare nella coalizione, per esempio, dei cosiddetti progressisti di Zedda. Si tratta di costruire una reale alternativa, la difficoltà in cosa sta? Che non abbiamo mezzi ma abbiamo molte idee, il programma sarà diffuso fra poco, i temi li avete sentiti, abbiamo delle idee abbastanza chiare. La prima cosa è che noi guardiamo le persone, i lavoratori disoccupati, questi sono i primi aspetti. Il fatto che sia un sassarese candidato alla Presidente è l'unico sassarese, è una cosa positiva per la città di Sassare, ma non cambia l'attenzione del candidato Presidente verso il Sulcis o verso l'Ogliastra o verso Cagliaro o verso la Gallura. Però è un atto di soddisfazione per questa città che comunque è stata molto abbandonata il nord-ovest dell'isola dalle politiche del centro-sinistra sardo.